e ci siamo siamo andati tutti a londra ieri è avvenuto l'update di ethereum e in london in questione che cosa sta cambiando quello che hanno fatto in pratica sulla blockchain di eth ma poi soprattutto la domanda da un milione di bitcoin anzi in questo caso da 10 milioni di iter facciamo così come impatta questo update london sul prezzo degli iter che cosa può cambiare che cosa sta succedendo perché in una delle tante modifiche che sono avvenute ieri ce n'è una in particolar modo che cambia radicalmente la struttura dell'ecosistema di eth e quindi a quel punto dobbiamo andare a fare una serie di considerazioni perché th potrebbe anche diventare una coin deflattiva una delle poche sicuramente tra le top 10 è l'unica se non sbaglio e potrebbe essere anche un fenomeno nuovo che potrebbe influire sul prezzo sia in maniera positiva ma anche bisogna stare attenti che i miners non facciano il colpo gobba come si dice e abbandonino addirittura il progetto non credo che sia così comunque lo analizzeremo in questo video allora ragazzi intanto iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto come sempre poi c'è il nuovo ig canale tra l'altro oggi ho pubblicato una serie di storie di allievi traders neutralize che hanno fatto il botto in questi giorni con iscritti in academy che hanno poi insomma fatto grandi operazioni andatevi a vedere sono sempre belle queste cose ragazzi io sono contentissimo di darvi veramente moltissime informazioni quello che posso ovviamente non è che siamo niscenti ok va bene ragazzo allora andiamo a vedere quella quella questione e di relativa appunto a detti a che intanto qui abbiamo anche un grafico e tutto quello che è avvenuto allora ragazzi e th la questione principale e sono avvenute due modifiche principali una in realtà è una modifica di una precedente modifica che è quella relativa alla difficulty time bomb che è praticamente un sistema in cui si aumenta in maniera artificiale la difficulty di calcolo relativa alla blockchain di eth e lo si fa per un motivo molto semplice ragazzi ok si vuole far traslare tutti i miners su eth 2.0 nel precedente upgrade update di della blockchain era già stata introdotta questa difficulty time bomb però in questo london l'hanno in realtà rimodulata ribilanciata perché si sono accorti che non può eccessiva questa cosa è normale niente di che ragazzi è un sistema che aumenta la difficoltà in maniera artificiale fino a rendere praticamente impossibile l'utilizzo dei miners sulla blockchain eth 1 ovviamente portarseli su eth 2.0 il concetto è di natura potremmo dire politica ok è un modo in cui io dico a tutti i miners venite su eth 2.0 cosa fa questa cosa sul prezzo nulla in pratica ragazzi perché semplicemente potrebbe impattare in maniera molto negativa sul prezzo se i miners non accettano cose del genere non traslano su eth 2.0 però sono cose che ovviamente esulano da una previsione statistica impossibile da ragionare questi tipi di concetti e soprattutto la vedo una previsione estremamente e molto molto remota se non che invece c'è il secondo punto importante poi ci sono tanti altri punti che il london update london ha modificato però in questo caso quello che ci interessa per fare un aggiornamento delle nostre tecniche di previsione di prezzo e cercare di capire che cosa può cambiare su eth nei prossimi mesi è quello relativo alla cosiddetto base fee che vengono in questo caso bruciate ok quindi per la prima volta vi faccio vedere anche il grafico che in questo momento ci indica il burn rate di eth e ogni volta che viene vengono diciamo inserite le base fee su una transazione queste vengono non più distribuite ai miners ma bensì bruciate vi spiego anche velocemente in maniera chiaramente molto semplice ragazzi non entrando nei dettagli informatici che cosa sono queste base fee perché si modificano anche i metodi di calcolo delle base fee su eth che non sono più delle base fee come le precedenti ma vengono praticamente cappate in basso e in alto quindi è un sistema che ci dice quante sono le fee in maniera estremamente più semplice quindi sarà più semplice per i wallet come metamask per esempio calcolare le fee in un determinato momento quindi noi andremo a fare una transazione cth pagheremo le base fee più un tips se vogliamo dare ai miners e quella sarà la loro fetta ora lo vedremo e queste base fee hanno la possibilità di oscillare tra un meno 12 e 5 più 12 e 5 circa e quindi hanno un cap in pratica un tetto nelle quali possono oscillare in maniera variabile in base alla fatto che la rete sia molto utilizzata o meno utilizzata insomma ok questo più o meno il concetto di farle oscillare in maniera più semplice e meno per dare meno impulsi diciamo ai picchi delle base fee che c'erano quando la rete veniva saturata e poi c'è anche un sistema che può allargare il blocco insomma è estremamente complesso diciamo anche questa cosa ragazzi allora qual è il concetto queste base fee non vengono più date ai mani se vengono bruciate ok come le vediamo qui che significa bruciate che praticamente abbiamo un tasso di burn di e th per ogni singolo minuto guardate qui in questo caso per esempio nell'ultima ora abbiamo avuto un bar rate di 3.27 th bruciati ogni minuto e mentre nelle ultime 24 ore si sta stabilizzando il tasso di burn e quindi burn rate a 3.14 e th al minuto sempre però nelle ultime 24 ok a questo punto allora dovremmo dire benissimo ethereum diventa inflattivo deflattivo da inflattivo sì no come si fa questo calcolo allora è molto semplice ragazze allora su questo su questo grafico che vi ho fatto vedere abbiamo gli iter che vengono bruciati durante le base fee se le base fee salgono tantissimo ma abbiamo visto che in realtà sono un po cappate anche le base fee potrebbe salire anche il burn rate per minute ora se il barn rate per minute sale al di sopra degli iter che vengono invece erogati ogni blocco come reward dato ai miners allora a quel punto potremmo avere una situazione limite dove gli iter bruciati sono addirittura di più degli iter dati quindi erogati nuovi emessi in quel caso solo in quello specifico caso si potrebbe definire e th come il deflattivo ok è un caso però estremamente limite quindi e th iter in generale non sarà una moneta deflattiva assolutamente no però potrebbe esserlo in alcuni specifici momenti facciamo per esempio un calcolo vi faccio vedere anche il differenziale in questo momento per esempio ragazzi tre iter al minuto vengono bruciati quanto sono gli iter che vengono erogati ogni minuto allora per blocco la reward dei th vedete la trovate anche qui sono di 2 e th per ogni singolo blocco quindi basta moltiplicare quella che la reward classica per blocco che sono 2 e th per il blocco alla minuto vediamo se eccolo qui gli iter average block time chart questo mi dice che si trova un blocco di eth ogni 13 secondi quindi in sostanza dovrebbero esserci ragazzi più o meno quattro e mezzo blocchi alla minuto per due ethereum che vengono due iter che vengono che vengono dati in reward abbiamo circa 9 più o meno ragazzi sto facendo i conti alla serva circa 9 10 iter che vengono dati in reward ogni minuto e in questo momento tre di quelli vengono bruciati quindi non è in questo momento definibile una moneta deflattiva chiaramente difficilmente lo sarà ma se questo bar rate sale al di sopra per esempio di 10 e th per minute allora a quel punto in quello specifico momento e th potrebbe diventare una moneta deflattiva ok abbiamo detto tutto questo vi ho spiegato come fare i calcoli come andare a ragionare e capire che cosa sta succedendo questa è la vera 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 differenza rispetto a pochi giorni fa quindi avremo due effetti misti più o meno l'effetto con le base fee che sono più stabilizzate rispetto al precedente sempre variabili ma più stabilizzate probabilmente a un livello più basso del precedente poi abbiamo da una parte invece la inflazione di eth che si riduce questo è una certezza in questo caso per esempio l'inflazione di eth in questo momento in questo preciso momento è ridotta di un terzo rispetto agli anni precedenti questa è una cosa molto importante perché significa che il 30 per cento della precedente inflazione se ne va ragazzi è come se noi diciamo l'impatto inflattivo dei reward che vengono dati ai miners sul prezzo di ethereum che lo abbassano il prezzo di tempo ora vi faccio vedere anche cosa cambia a livello grafico come andarlo a guardare si riduce ok si riduce del 30 per cento questo è un impatto nel breve periodo no questo è un impatto nel medio periodo no questo ha un impatto nel lungo periodo solo ed esclusivamente nel lungo periodo una cosa del genere ragazzi non impatta il prezzo di eth nel breve ed è per questo che non abbiamo visto alcuna oscillazione di prezzo su eth di rilevan rilevante non c'è stato il buy pre news non c'è stato il sale ogni uso tutto è leggermente standard adesso siamo in una nuova fase ciclica di bc come vi ho lasciato intendere nei precedenti video andatevi a vedere tutto sta funzionando secondo quella riga questo tipo di update relative alle coin non impattano nel breve i prezzi se non a livello di grandi speculazioni che sono manovrate ma da un punto di vista logico non c'è alcun impatto nel lungo periodo però l'impatto c'è andiamo a vedere questo tipo di impatto nel lungo periodo e poi concludiamo questo video cercando di capire che cosa potrebbe succedere eth e quali sono un po anche le idee generali che magari possiamo andare ad optare sulla base diciamo di alcune strategie allora ragazzi vi faccio vedere quello che andremo a e che cambierà sostanzialmente con il fatto che è la inflazione di eth in questo momento è ridotta del 30 per cento ma potrebbe addirittura anche azzerarsi come vi ho spiegato in alcuni determinati momenti qual è stato l'impatto dell'inflazione su il prezzo di eth negli ultimi anni per esempio dall'ultimo picco del 2018 fino ai prezzi attuali come si fa a guardare dovete andare su trading view e andarvi a guardare il grafico della market cap di eth la market cap di eth e l'espressione dei vero valore di eth compresi anche rewards quindi se noi vogliamo andare a capire quanto ha impattato l'inflazione negli anni precedenti per farci un po un calcolo di quello che potrebbe succedere sul prezzo nei prossimi anni possiamo andare a fare questa differenza e andare a vedere un po l'impatto inflattivo allora anche perché molti ragazzi si dicono adesso c'è questo meccanismo i prezzi esplodono non è così ragazzi ok non esplodono però sicuro ora vediamo i dati non è per quello che esplodono se dovessero salire saliranno per le questioni che abbiamo sempre detto relativa all'adozione della blue chain quello che sta facendo di buono tutto questo mondo non certamente per questo fork allora andiamo a fare i calcoli in questione dalla l'ultimo massimo del di eth nel 2018 agli attuali prezzi quello che è successo è stato un incremento ragazzi ok se andiamo a vedere proprio nel dettaglio qui ho fatto male un pochettino la questione sugli ultimi prezzi è stato un incremento di circa il 96 per cento quindi se noi andassimo a fare un ragionamento di tra massimo e massimo giusto per farvi capire a distanza di circa tre anni e qualcosa tre anni e mezzo l'incremento di eth è stato dal 96 per cento da questi precedenti massimi come prezzo se andiamo a fare lo stesso calcolo sulla market cap includiamo la questione legata all'inflazione quindi andiamo qui ci mettiamo sempre sullo stesso livello del 2018 e saliamo come vedete il livello di incremento è circa 130 per cento cosa significa questa cosa qui ragazzi 130 contro 96 per cento questo significa che circa il 30 per cento di incremento del prezzo di eth è stato perso negli ultimi tre anni è qualcosa tre anni e mezzo a causa dell'inflazione del della moneta dell'inflazione di eth ora c'è da dire che in questi anni l'inflazione della moneta e già si è ridotta per via del blocco che si è ridotto eccetera poi si ridurrà ancora di più relativamente a questa questione legata al barn della base fee di eth di un altro 30 per cento quindi questo margine che avete visto nei prossimi anni si assottiglierà quindi significa che in questo momento negli anni precedenti il prezzo ha avuto una palla di piombo attaccata che non gli ha consentito di fare un più 30 per cento rispetto alla vera struttura al vero rialzo della della market cap di eth nei prossimi anni questo 30 per cento questo piombo si è alleggerito ragazzi questo significa che probabilmente se th dovesse salire magari nel totale del 100 per cento faccio per dire ragazzi avremo un rialzo sul prezzo magari pari al 90 per cento invece del 70 quindi ci sarà un aumento del prezzo in maniera più vicina a quella proporzionale della market cap questo è il senso di questa update di questo fork ed è in questo modo che cambia la struttura nel lungo periodo del prezzo quindi sono variazioni sicuramente importanti ma non rilevanti perché sulla volatilità di questi mercati questo tipo di strutture non cambiano il prezzo ragazzi nel lungo periodo in maniera rilevante cambiano l'adoption per esempio cambiano quelli che sono i concetti di dire è ottimo questa cosa mi piace l'accetto lo utilizzo di più queste sono quelle variabili che hanno maggiore impatto sul prezzo quindi la struttura inflattiva che diventa semi inflattiva e potrebbe addirittura diventare deflattiva può avere una variazione ma avete visto l'impatto comunque non rilevante negli ultimi tre anni e mezzo si un 30 per cento comunque non è male ok però nei mercati cripto sono diciamo oscillazioni accettabili ecco ok quindi questo 30 nei prossimi anni sarà sicuramente ridotto a un 15 10 per cento questo è quello che vedremo quello che è stata il differenziale ma quello che si vedrà sarà la risposta quello che avrà l'impatto sul prezzo deve essere la risposta dei miners di tutta il mondo blockchain di tutto il mondo cripto a questo nuovo fork che poi ragazzi questo è un fork di un progetto tecnicamente che sta per essere abbandonato perché bisogna andare su eth 2.0 ok quindi questo è uno degli ultimi update che vengono fatti proprio per spingere i miners verso quella strada e praticamente ragazzi sono gli ultimi rintocchi della campana ok che vengono dati a eth 1.0 per farlo star bene per dare ai miners ancora qualcosa per spingere i loro stessi con il tempo da trasladare e poi anche per dare il tempo ai programmatori di traslare perché evidentemente se fanno una cosa del genere anche molto importante perché comunque è un update molto importante ragazzi forse la lo spostamento a th 2.0 non avverrà in maniera molto veloce potrebbe essere un po più lento del previsto questo stride un po con tante questioni però ci sta ragazzi assolutamente ci sta quindi impatto sul prezzo del fork di eth si c'è l'abbiamo visto l'abbiamo quantificato è poco ragazzi ok in termini dei prossimi anni potrà essere un 20 per cento rispetto all'andamento standard del mercato di quello che succederà è paragonato sempre agli anni precedenti ma l'impatto che invece potrebbe avere sulla idea che un progetto del genere fa comunque dei passi avanti che potrebbe essere utilizzato la user la usability come si dice allora la adoption ecco della blockchain quello maggiore impatto ragazzi quindi se per gli utenti le fee sono ridotte si utilizzerà di più e th allora lì il prezzo avrà secondo me un maggiore impatto è una mia opinione chiaramente un'opinione un po diciamo molto personale perciò vi chiedo ragazzi di scrivermi nei commenti quello che pensate voi relativamente a questa cosa perché ci scambiamo un po di idee soprattutto chi di voi un informatico e c'ha le cosiddette quadrate perché mi date una mano io non sono informatico lo sapete perciò ho delle idee in testa ma poi ovviamente ci scambiamo otteniamo sicuramente un maggior valore la mia idea è che la maggiore utilizzabilità del progetto e th e il fatto che sia facilmente aggiornabile dia un impatto maggiore sul prezzo piuttosto che la questione legata alla inflazione bar deflazione cosa ne pensate voi fatemelo sapere nei commenti che faticata ci vediamo nel prossimo video ciao ragazzi